Allora ci siamo! Dove siamo? Vediamo chi risponde, dove siamo? Piazza Maggiore, siamo a Bologna. Allora qua ci sono come vedete nello sfondo le 6.000 piantine che ormai sono 3.000 perché molte sono già partite per i circoli arci. Mettetevi più vicini così vi vedo tutti. E niente qua siamo in grande fermento se non avete ancora acquistato la vostra piantina andate subito su 6.000 piantine.it Vieni più vicina Anna? 6.000 piantine è una piantina aromatica o una piantina fiorita mi raccomando ragazzi perché andranno questi soldi in sostegno ai circoli arci di Bologna che da settembre purtroppo rischia noi molti la chiusura. Quindi correte subito sul sito 6.000 piantine.it ad acquistare la vostra piantina. E se siete a Bologna? Passate la Piazza Maggiore. No? È giusto! Perché la trago è un'ottima venditrice. Passate ora! In politica siamo scherzissimi però in botanica guarda che cosa è... E a vendere ancora meglio. A vendere piante. Ragazzi i like non bastano dateci una mano bisogna convertire queste piantine altrimenti altro che sindaco non sindaco siamo senza circoli arci tra un anno a Bologna. E come ben sapete i circoli arci sono un patrimonio di cultura, arte, sono un patrimonio di danza, socialità, solidarietà. Perciò non possiamo permettere che questi circoli arci a Bologna chiudano. Brava Trap! Grazie, grazie. Va bene. E quindi venite in Piazza Maggiore se siete a Bologna. Se non siete a Bologna prendete un treno per venire. Se invece siete così lontani potete andare su 6.000 piantine.it. Vi passiamo a vedere tutti. Rossella, presidentessa di Arci, direttamente su 6.000 sardine. Ciao! Marco si nasconde. Sembra cattiva ma non lo è. No, sono buonissima. Venite qui in piazza a comprare le piantine però. Arci e sardine. Da Bologna la prima svolta. Poi arriviamo dappertutto. Diciamolo anche alla presidenta Chiavacci. Arriviamo in tutta Italia. Intanto partiamo da Bologna e vediamo come va. Vi facciamo vedere anche un po' di panoramica. Questa è la panoramica. Qua le abbiamo già finite. Questa è la piantina. Questa è la piantina. Questa è una di Fladenia. Questo è Giovanni che è arrivato da Brescia apposta. Qua abbiamo Rosmaria. La Miriam da Brescia. C'è Pav da Vercelli. Abbiamo sardine da tutta Italia oggi. E niente. Questo è quanto. Vai vi faccio fare ancora un giretto. Lei è Giulia Trappoloni. Giulia Trappoloni. Giulia Trappoloni. Lei è Giulia Trappoloni. La trappola sì. C'è anche Lori. L'Oribo. L'Oribo. La Anna. Claudia. Da Latina. La gioia. Andiamo a salutare le ragazze. Andiamo a salutare le ragazze. Joy, fai un saluto. Ciao. Che siamo in diretta su Facebook. C'è la Sophie Joy. Ciao. E niente. Aspetta che vi salute anche la Rebecca in diretta da 6.000 sardine. Cosa stiamo facendo Rebecca? Spiegacelo in due parole Nooo, come avete in difficoltà? Bene, niente, queste sono le piantine, guardate che meraviglia In realtà metà piazza già è vuota, però l'altra metà è ancora piena di piantine da vendere Quindi mi raccomando, salviamo i circoli arci E rendiamo questa città, anzi facciamo sì che questa città resti la città che è una città di grande accoglienza Una città di cultura, di arte, quindi mi raccomando 6.000 piantine con arci Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie ancora